Ciao a tutti, sono Calchi e oggi parliamo di questo. Questo qua. Questo è un pacco arrivato dalla redazione di Topolino e lo dico con l'entusiasmo non solo di appartenente allo staff dei ventenni, ma soprattutto da ventenne piangente fin da piccolo. Quindi bando alle cianci e lo apriamo. Cambio un attimo location. Con i potentissimi mezzi aerei dei ventenni paperoni vado a strazzare, perché sì, ho qualche strumento tecnico come forbici e taglierino, però strazzare un pacco è la cosa più bella del mondo. Vediamo un po' che c'è dentro. Vado alla cieca. Ecco qua. Ragazzi, il primo mazzo di Donald Kest, che tra l'altro affrettatevi perché è già in edicola. Questa saga medievale steampunk, iniziata più o meno dal Topolino, se non ricordo male, 3240. E il gioco invece, andato in edicola, il primo pezzo la settimana scorsa, col Topolino 3351. Questa settimana siamo al 52. Questa è la scatola. Ok. Quindi, diviso in due uscite, 51 e 52. Eccolo qua. Questo è il 52. E vediamo che altro c'è. Caspita ragazzi, una lettra, ma questa la leggiamo per ultima, perché prima svuotiamo il pacco. Ok. Ultimo mazzo. Eccoci qua. Il pacco è vuoto. Sì? Perfetto. Lo lanciamo via. E leggiamo il bigliettino. Cari ventenni, chiamate a raccolta gli amici e preparatevi a sconfiggere i terribili meteorbeasts. Col gioco di Donald Kest si vola nello spazio. Buon divertimento. Caspita ragazzi. E' il primo biglietto di Topolino dedicato che leggo. Quindi l'emozione è grande. Allora, abbiamo due pacchetti di figurine e il tabellone. Iniziamo i preannunciati potentissimi mezzi dei vendenni paperoni. Queste plastiche erano il mio nemico fin da piccolino e tu volevi subito giocare, però dovevi chiamare l'eventuale genitore presente per farti aprire il pacchetto, perdendo tempo prezioso. Allora, la scatola è senza dubbio molto carina. Molto molto carina. Facciamo la sacra apertura. Ok. Vediamo che c'è. Allora, il regolamento che leggerò con calma è il tabellone. Vediamo un po'. Il tabellone che promette di essere molto lungo. Molto lungo, volevo dire molto grande. Tiriamo un attimo. Ecco qua. Decisamente sì. Decisamente sì. Ecco qua. Caspita. E a questo punto io chiudo. Chiudo perché, come è scritto nella lettera, voglio provarlo. Voglio giocarci. E non vi anticipo altro. Ci vediamo tra qualche giorno con un video dedicato. Ciao a tutti.